Tra le capre Forse per questo l'appagamento dei sensi mi dà una contentezza unica. Spesso il segreto delle mie origini grida forte, ma per gli amici la mia vita è casa aperta. Adesso il tempo batte forte nella mia testa, con la mano incrostata di sporco, e non so ancora perché. Commento Non lo saprai fino a quando non intuirai che tua madre era tua figlia, che la prostituta è stata tua madre, che tuo padre era tuo figlio, che avevi abortito da donna, e che gli amici sono quelli a cui hai fatto del bene.